Hai mai sentito parlare degli interessi moratori? Se vuoi saperne di più questo video fa per te. Gli interessi moratori o dimora sono quelli che il debitore deve al creditore come conseguenza del ritardo nell'adempimento della sua obbligazione pecuniaria. È un po' difficile, te lo spiego meglio con un esempio. Emetti una fattura per un lavoro svolto o per della merce consegnata e il tuo cliente non ti paga alla data indicata. Da questo momento il tuo cliente diviene debitore e quindi dovrà pagare sia la somma della fattura che appunto gli interessi. Gli interessi dimora o moratori sono previsti dal codice civile all'articolo 1224. L'articolo in questione stabilisce quindi che dal giorno del ritardo saranno dovuti gli interessi. Questo a prescindere dalla sottoscrizione o meno di un contratto perché è la stessa legge a tutelarti. Il nostro legislatore aveva sicuramente un fine quando ha disciplinato gli interessi dimora. Risarcire il creditore in modo automatico per le conseguenze negative del ritardo da parte del proprio cliente. E questo senza che sia necessario fornire alcuna prova. Nella sostanza basterà che il tuo cliente non paghi la fattura. Se le parti non stabiliscono direttamente il tasso di interesse si applicherà quello legale che viene stabilito anno dopo anno dal ministero dell'economia. Al contrario le parti potranno stabilire anche un tasso diverso sempre che questo sia al di sotto dei limiti dell'usura stabiliti dal ministero del tesoro. E adesso ti do una chicca. Il decreto legislativo 231 del 2002 prevede che nel caso di transazioni commerciali, prestazioni di un professionista o di un lavoratore autonomo, gli interessi verranno calcolati sulla base di un tasso speciale. In questo caso il tasso speciale sarà formato dal tasso di riferimento stabilito dal ministero dell'economia maggiorato di 8 punti percentuali. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al nostro canale youtube e segui tutti gli aggiornamenti sul nostro sito.